Come caspita fai a dire che questo albero è malato, deve essere abbattuto, quando sta già producendo? Ma tu dimostrami che questo albero è malato, questa è la fioritura nuova, noi a lei ce la chiamiamo l'entrata nuova. Per mia esperienza questa cosa è stata fatta dalla mano umana, non dal cielo, secondo me. Lui è riuscito a debellarla, i suoi alberi sono tutti salvi. Il biscotto di tagliare gli alberi è pagato, c'è il sistema di coltivare. È come uno di noi, l'albero è umano, è come la vita nostra, se non lo pute, lo trascurri più tanti anni, che succede? Che l'albero perde? Siamo passati dai 13.000-14.000 quintali del 2013 al 2005 di quest'anno, c'è stato un abbattimento di oltre l'80%, quindi la situazione è veramente... l'albero. Ma dai, il cuore Cristo camminava in mezzo agli olivi, non l'avete detto il Signore? come si chiama? Giovanni. Della quant'anni c'ha? Della quant'anni c'ho io io? 8-3. Il primo maggio venite, 83 anni ora. Lei c'ha olive? Sì. Quante? Eh, 200 di quanta pianta? 250. Passata pure. Passata. L'accinella c'è? No. Sì. Sì. 83 anni l'anno. Un giovanotto. No, no, no. Basta, basta. Ma ancora facendo fotografia? Basta. Basta. L'attore ti è diventato... Basta, sì. Sì.